Hola, io sono Marco Scrum e ragazzi, sono tutti belli, bentornati nell'Extreme Hunt Survival, tu nonna Ormai si chiama così stasera, tu nonna Non la vostra in particolare Un tu nonna generico Registo questa puntata subito dopo quella precedente perché oggi non volevo lasciarvi senza il secondo video Quindi non so com'è andata, spero bene Aga 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 No, spero che comunque vi sia piaciuta perché E malgrado il mio astio verso le mappe vanilla Questa sembra buona, cioè questa sembra interessante, ecco questo C'è roba, c'è roba, ci stanno i goals, ci stanno le cose Abbiamo trovato la redstone, potrei fare un pistone e poi darmelo tutto in faccia Oppure continuare così e cercare di roba o di fame perché effettivamente ogni volta muoio di fame Quindi, cioè, non è che ogni volta muoio Del buon mille, mmm interessante, interessantissimo Allora Ho finito le torce e questa è una cosa bruttissima Io volevo andare ad esplorare lassù In questa puntatozza E qui c'è anche questa cosa che mi era sfuggita questa piattaforma qui Quindi facciamo Una bella scaletta Avete visto quanto so bravo a fare scalette? Già sbaglio subito, immediatamente Bravo Arcuscron, bravissimo Bra che scefiscio Qui ce ne vorrà Uh, salve Salve Lox, come va? Uh, call Call è importantissimo il call Ci facciamo le stecchiette Sì, però se non trovo gli alberi Se non trovo gli alberi Che cacchio ci faccio col call Ve lo fai stecches? Cioè, come faccio a fare stecche senza call? Come stecche call senza stecche? Mi raccomandissimo Datemi dei suggerimenti all'interno dei cosi Però lo spoilerate Brutti, baledetti, bastardi Che non siete altri Sempre molto generico Ogni offesa è a carattere generico Allora No Nope, nope, nope Sto affinando la cobblestone Oh, ma là sei Ho una pippa, Marcuscron Che pippa, Marcuscron Ho visto Tra i vari sbagli Che c'era anche quello di Mushroom Forse Dico forse Ma forse non lo so Che cos'è quello? È un passage segreto? Non lo so Io sotto non ce vado Sotto è Very, Very Dangerous L'unica cosa che devo capire È quanto Quanto è alto questo loco? Cioè, dove si loca La fine del loco delle cose? Io ho il piccone di ferro Però Dovrei trovare qualche cosa di buono Della terra Attenzione Il paradiso Si cazzo Perché non ho preso la pala? Sono proprio un mongo flaffico Eh? Perché non ho preso la pala? Convoca, raga Marcuscron parla di alberi E becca gli alberi Che strano Secondo me succederà qualcosa di brutto Allora Fatemi prendere 1, 2, 3, 8, 16 24, 64, 128, 356 712 Beh, non lo so Sono solo la pipa matematica E facciamo così Stavolta facciamo Tot, 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 tot Ci avviciniamo Confidiamo che Stavo shiftando Quindi non potevo cadere Però mi sono cagato sotto lo stesso Lì è pieno di struns Adesso se io rompo l'erba E non mi esce un semino Spacco tutto quanto, raga Spacco tutto quanto Sto per spaccare tutto quanto Ma io l'ho avvisato Un semino Sì Aviva Oh, uno solo Ah no, due I fiorellini A parte che ho il buon mille Quindi questa cosa che sto dicendo È un po' stupidissimo Perché potrei anche barabà Qui sotto c'è un bauco Che porta Sento degli enderman Eh Altri alberi Questa è la puntata D'esplorazione degli alberi Sicuro, sicuro, sicuro Allora Prendiamo della fregna Della, della legna Volevo dire, ragazzi Prendiamo della Uh, abbiamo preso il legnolo Grazie, grazie, grazie Ecco, troppo gentili Davvero troppo gentili Non possiamo usare l'acqua nel nether Non possiamo rompere il glass del cube Non possiamo lasciare la hand cube Until you get that archicubment Eh? Cioè non potete Oh, oh, oh Aspettate, aspettate, aspettate Perché se mi Se mi da Se non mi da I cosi Cioè se mi da I sapling E poi cascano Cioè tipo io sbrocco Fortissimamente Vorrei evitarlo Vorrei evitarlo Perché non mi va di tirare I bestemiauni Di mattina presto Quindi Fermiamoci Ok Perfetto Allora vieni qua E non ce la fa Non ci arrivo Sono basso Oh, eccolo uno Grande Grandissimo Allora Direi Passiamo una torcia qua Poi 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 Facciamo subito Il nostro Oh, il nostro fregno Eccolo qui Stecchette per noi Giù Di pale Perché con le pale Spade Non sciarate Anzi Pale non sciarate Con le pale appiattiamo tutto Tra l'altro Appiattiamo proprio C'è il verbo appiattare Tra l'altro Io ero contentissimo Perché ho trovato il grano Ma in questo istante Mi è sovvenuto un problema È sopraggiunto Anzi Ma io non c'ho l'acqua Oddio L'acqua aspetta Io ho il ferro E l'acqua sta sotto Potrei fare una missione punitiva Ho molta paura Però potrei farlo Cioè nel senso Niente me lo vieta Morble 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 Non lo so Non lo so Devo decidere Devo ancora Devo decidirissimo Io sto Io sto piattendo Perché vorrei Almeno avere Una zona dove Sicuramente Non mi spawnano I mob E quindi Dobbiamo Per forza Per forza Appiattire Perché attenti Non si fa Non si fa Tanti Bisogna Avere il chaibo In minecraft Regà Il chaibo Il chaibo E' un porciance Certo Corgrano Non andiamo Poi così tanto Lontano Soprattutto Senza acqua Perché in realtà Cresce Però ci mette Devo mille Milioni di anni Però c'ho il Buon meal Che 8 per 3 Fa 24 Quindi Ci abbiamo Quasi finito Abbiamo quasi finito A chiacchierare Si va avanti E poi abbiamo Preso tutta Questa bellissima Terra In questo modo Io potrò Sorseggiare Del buon caffè Esattolo Esattolo Non era proprio Questa la conclusione Logica a cui Volevo arrivare Ma non fa niente Ragazzi Non fa niente Ok Che sei No Un altro strato Ho quasi finito Una pala Guardate quanto Sono stato Saggio E canuto Nella Purtroppo i capelli Bianchi non mi veranno Nel fare Due pali Sono stato proprio Saggio Saggissimo Saggina Vagina Qui abbiamo Della gravel Che se non sbaglio In minecraft Nella Ma posso Tappure Tutta in faccia E signori Signori Abbiamo finito Tempo Di ricoprire Tutte cose Sento rumori Proprio brutti 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 E voilà La nostra Zonetta Franca Riuscirà Franca A farsi I nostri amici No aspetta Riuscirà I nostri amici A farla Franca O sarà Franca A farsi I nostri amici Io spero Che Franca Perché Sai come Se fossi donna Gangbang Tutta la vita Dunque 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 Non le ripetete Voi a casa Dopo mi denunciano a me Facciamo così Torcine Finalment Chissà Non mi ricordo Quanto emettono Le torce Però Una persona Saggia Dovrebbe andare a controllare Delight Qui E qui Va bene Qui sta scendendo Qui sta scemendo Ora L'unico punto d'accesso È questo Ma se io facessi Una portola Non così Ma così Vediamo un poco Tre me ne dà Ma è fantastico Uh che bella porta Ma che è sta roba Ah è vero È vero È vero Guardate che bellissima Allora noi facciamo così Questa è la porta di Cristo Passi Ok Passi non fumo Per vivere come bruti Però questo point of situation Io vorrebbe Così Così Cioè gli slab Rega Eh 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 Tadam C'è guardate qua Casetta Marcus Croniana Come va Eh Bellissimo Ma è fantastico Ma tipo mi accorgo Che sopra c'è uno spot Ah sì Devo andare laggiù Giusto 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 Allora Cos'altro ci mancola Ci mancola Che abbiamo qui questo Vieni qui Abbiamo lo sbronna mill Possiamo farci Una bellissima vanga Oh Questa è un'ascia Molto bene E Proviamo a piantare le cosine Non ti sdroppare Ok Ok Eh Non ce la faremo mai Rega Non ce la faremo mai Mais Dire mais Però Almeno una magnottella Una magnottella Sassimo fatta Ecco qua E dai E dai Il bron mill Me lo lascerebbe Uh Oh Interessante Il bron mill Dicevo me lo lascerebbe In In qui Non so se sprecare Queste torci Queste cose Andare laggiù Senza passare dal via La aspettate Facciamo What Da dove Ah Porca puttana Non si vede a sto buco Uh Però questo 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 è buono Questo è buonissimo Perché quando Ero qui Maledicevo il fatto Di non avere il legno Adesso ce l'ho il legno Facciamoci le torci Altrimenti qua Diventa tutto Piero de Bob Ogni volta Quindi facciamo così Molto bene Prendiamo anche questo Call Non cadere dall'altra parte Per favore Call Non cadere Call Non cadere Call Eh Non cadere Oh Cagheri 9 pezzi Buoni Regà Questi sono buoni Come il pane Buonissimi Buoni State State buoni Buoni Così Ma acquisti Così Ma acquisti E abbiamo finito 20 pezzi Fantastico Ok 8 Fa 32 32 torce Dovrebbero andare bene Molto bene Ragazzi Molto bene D'accordo Allora Scendiamo di qua E prendiamo Un po' tutte cose E rompiti Ce la farò Per trasportare tutto Non lo so Non lo so Forse sì Che culo Devo buttare qualcosa Non mi sento di buttare queste Non mi sento di buttare queste Perché Ah infatti Perché il bone Non si metteva insieme Scusa Che io ho fatto De male Il bone Ma sei uno Sbrun mill Quella lì Me la lascio Quella là Me la lascio Me la lascio Perché Me la lascio E Andiamo a rimetterci Cioè Andiamo a stabilirci là Come Come Zona base Poi Se trovo Un posto più figo Tipo C'è dell'acqua A proposito dell'acqua Dobbiamo Absolutamente Farci un secchiello Allora Qui io direi Di poggiare tutte cose qua Molto bene E qui ci mettiamo Una fornace Questa la riprendiamo Subito E la mettiamo Questa puntata Non c'è stata Molta avventura Se devo proprio Essere onesto Io c'ho una pagnotta Uh l'albero Fermi tutti L'albero 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 Mettiamo qui Botto Bene Botto Bene Tututututututututututututututututututututututututututututututututu Che pulisce più di Chantna Claire Ok prendiamo la dottina Che ci interessa relativamente La pala No c'era una già chi se ne frega Un altro piccone perché non si son mais Tutututututututututu E il questo Ne mettiamo tre per fando un Lo so che dovrei fare l'iron golem Però per ora ci serve pure da magna Eh si ori eh si Guarda sto ragno maledetto ma guardate quanto sono stronzi incredibili incredibili ragazzi incredibile io direi che si potrebbe fare una cosa strana tipo laggiù per arrivare laggiù non mi da di fare una scaletta oddio potrei fare una scaletta in lungo però dangerous potrei fare che arrivo qua e poi da lì parto una scaletta verso di là ma sprecherò un sacco di materiali quindi no facciamo una cosa così anche se mi sembra un po' avventato parco scroo non so se se sarò in grado di perseguire il giusto ordine delle cose ma di sicuro qui almeno troveremo altri semetti eccole uno dacci oggi il nostro seme quotidiano e noi lo ripetiamo dai nostri peccatori allora se scendo per di qua poi faccio così 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 perché ho preso il piccone non se sa patapim no quello è un fiore e voilà signori e signori fortunatamente non ci sono cose cattive 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 e io ho visto che sono molto curioso e vorrei però terminare qui questa puntata direi di fare sul coso ci si arrampica e basta si no 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 e infatti lo sospettavo quindi facciamo così facciamo una bellissima taur sento del fuoco sento del fuoco raga fuoco nel fuoco i tuoi occhi tu dentro i miei ok e adesso signore e signori vi lascio con la vista di questa zona che magari voi avete visto mille volte io non ho mai vista mai che cosa c'è di interessante uno zibedeo di un cacchio no ci sta un albero di di speduluf porca paletta raga porca paletta chest chest e ci stanno sfruttati i pigmen interessante questa terza puntata ce lo spacchiamo e laggiù c'è un alberello di ciccio pelato perfetto andiamo a prendere questo qui e ragazzotti belli mi raccomando pollice in su noi ci vediamo alla prossima puntata di questa serie provvisoria che però spero vi piaccia bella raga